Adesso c'è anche l'ufficialità, chi le desiderava sotto l'albero di Natale sarà felice ora di conoscere le date ufficiali e le località del Vasco Non Stop Live 2018, lo spettacolo rock che arriverà a giugno negli stadi di 5 città e che si concluderà a Messina allo Stadio San Filippo, giovedì 21. Un importante ritorno a Messina che già negli scorsi appuntamenti con il cantautore di Zocca fece registrare il sold out che chiuderà il tour dopo Bari, Torino, Padova e Roma dove Vasco terrà doppio concerto. Un tour attesissimo dopo la tempesta perfetta di Modena Park, l'evento che rimarrà nella storia della musica rock italiana. Per l'estate 2018, annuncia Vasco al proprio profilo Facebook, noi procediamo per stadi. Il concerto del primo luglio scorso è stato un evento straordinario ma unico e ripetibile. L'apertura della vendita generale giovedì 14 alle 13, pre-sale per il Blasco Fan Club domani a partire dalle 10. L'apertura della vendita generale giovedì 14 alle 13, pre-sale per la vendita generale giovedì 14 alle 13, pre-sale per la vendita generale giovedì 14 alle 13.